Bisogna aprire un hub vaccinale anche a Roseto degli Abruzzi e questa la richiesta del sindaco Nunes che ieri è stato ricevuto dal direttore generale della ASL Teramana di Giosia. Con l'avvio della campagna per la terza dose, al momento gli abitanti della costa devono recarsi nel capoluogo di provincia per ricevere il vaccino. Per quanto riguarda il meglio lungo termine chiediamo la realizzazione di un distretto sanitario di base come avviato già dalla scorsa consigliatura mettendo a disposizione un'area, piazza Marco Polo nella zona di Roseto Sud e abbiamo avuto rassicurazioni dal direttore in merito alla destinazione di fondi del PNRR destinati appunto a tali tipi di interventi. Ci sarà di certo una grande sinergia. Rispetto invece all'immediato chiediamo e abbiamo chiesto con forza la presenza di un hub vaccinale per tutti i cittadini rosetani soprattutto gli ultra sessantenni che avrebbero più difficoltà a spostarsi in hub vaccinali di Teramo Capoloco o in altre città. L'assenza di un hub sulla costa evidentemente interessa anche gli altri comuni limitrofi. Anche l'amministrazione di Giulianova ha chiesto l'apertura di un centro vaccinale. Quindi al momento dell'Asl stanno decidendo se aprire un hub sulla costa Teramana, stanno scegliendo tra Giulianova e Roseto? Io credo che Giulianova ovviamente con un sindaco che già era in carica si sia mossa per tempo e abbia chiesto legittimamente non credo che la scelta debba essere alternativa. Roseto merita in quanto città centrale all'interno della costa e soprattutto secondo comune della provincia un hub a prescindere dagli altri comuni. Con l'abbassarsi delle temperature il numero di contagi è in aumento in tutta la regione. Attualmente i positivi al covid a Roseto degli Abruzzi sono oltre 100. È un numero ovviamente che allarma un po' e preoccupa anche se siamo all'interno del range che permette la prosecuzione della vita ordinaria e della colorazione bianca di quello che è appunto un territorio. Ovviamente l'invito ai cittadini e a tutti coloro che vivono e insistono sulla nostra città ha la massima prudenza rispetto del distanziamento, dell'utilizzo di tutti i dispositivi ma soprattutto di un atteggiamento attento e nel rispetto di questa pandemia nella quale non siamo ancora completamente usciti. Grazie a tutti.